Ascolto della ISS passaggio qua sulle Alpi in questo momento È molto fattente, è molto fondamentale è funzionale Non è in realtà in reale tempo perché apprende il tempo e la velocità di valore ha necessidade da voi a me. Quindi c'è un po' di paese. Grazie a tutti. 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 Perché chiaramente l'ISS sparirà dal nostro orizzonte proseguendo il suo cammino. È un po' come essere Superman. È una esperienza molto bella e mi perdono quando vengo a casa. Giornata bellissima con vento da nord-est. Il rocket works really hard to get through the atmosphere and so once we get through that thick atmosphere that's when we can start feeling the fact that we're in free fall. So there's still gravity here in low earth orbit. That's in fact what's keeping us going around the planet but it feels like you're just falling. Imagine being in an elevator where the cable is cut. That's what we're doing and we've been doing that for 22 years. It's pretty incredible. Over. Il segnale comincia a decrescere mano mano tra poco sparirà. Ecco qua sta sparendo. Praticamente è sparita all'improvviso. Ecco qui mettiamo un po' di squerch. Vediamo un pochettino. È sparita dal nostro orizzonte radio qua praticamente dall'antenna. L'antenna non riesce più a riceverla perché è molto più lontana. Ecco qua faccia dell'antenna qui. Piccola antenna magnetica sul tetto. Eccola qui. Ok buona giornata a tutti. Passaggio della ISS. Stazione Spaziale Internazionale. Qui venendo dalle Alpi qui a Nord. Passando il passaggio sulle Alpi. E' veramente molto più a Nord. Si è sentita benissimo insomma. Per 6-7 minuti l'abbiamo tenuto sotto. Sotto l'antenna praticamente. Ciao a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.